Ciao a tutti, io sto a casa, mi mancate tantissimo, un abbraccio a tutti i colleghi della Kumiai e a tutti gli allievi, torneremo presto e soprattutto più forti di prima e magari con dei capelli migliori. Un bacione! Ciao a tutti, agli allievi e agli arreti del Kumiai e anche io resto a casa. Ciao amici del Kumiai, anche io resto a casa. Ciao amici del Kumiai, come potete vedere anche io resto a casa, quindi fate così anche voi e ci rivedremo presto. Grazie ragazzi! Come state? Spero che voi state bene e colgo l'occasione per farvi un saluto e per mandarvi un abbraccio virtuale, sperando di poterlo fare fisicamente quanto prima. Vorrei salutare tutti i miei allievi e tutta la palestra Kumiai, sperando di vederci veramente il prima possibile. Restiamo a casa! Buongiorno a tutti gli amici del Kumiai. Volevo ricordarvi, anche io resto a casa. Spero lo facciate anche voi, spero che vi stiate passando questo periodo duro il meglio possibile. Mi auguro di rivedervi al più presto e di tornare a passare dei bei momenti assieme. Un abbraccio a tutti. Ciao a tutti, vorrei mandarvi un grosso abbraccio a tutti voi. Niente, mi mancate un sacco, però dobbiamo restare a casa, stare sereni, continuare ad allenarci e presto ci ritroveremo di nuovo tutti in palestra a ridere e scherzare insieme. Ciao! Ciao a tutti, spero di rivedervi presto. Intanto io resto a casa. Fatelo anche voi. Anche io resto a casa. Un saluto a tutti gli associati del Kumiai. Andrà tutto bene, ci vediamo prestissimo. State a casa! Ciao amici del Kumiai, come state? Spero bene. Io come tutti voi, vedete, sono costretto a casa e mi godo il mio cagnone Soba. Mi raccomando, rimanete a casa e se possibile fate un pochino di movimento all'interno dei vostri appartamenti. Un bacio e un saluto! Ciao ragazzi, mi mancate un sacco, vi mando un grande abbraccio e nel frattempo io resto a casa. Ciao! Ciao ragazzi, solamente tre parole, non solo il cuore e amore, ma state a casa. Io ci sto, fatelo anche voi. Ciao ragazzi, io resto a casa, restateci anche voi e tutto andrà bene. Mi raccomando, fate i brazzi. Ragazzi, rimaniamo tutti a casa e presto ci rivedremo. Ciao ragazzi, torneremo presto ad allenarci insieme, ma adesso stiamo a casa. Ciao! Ciao a tutti, spero di rivedervi presto, vi mando un abbraccio grande grande e io resto a casa. Ciao, ciao, ciao!